Le mie notti insonni erano notti in cui io dormivo zero ore. Io continuavo a dormire da tutte le parti. Me lo chiedeva anche a me come mai io non sapevo dargli una risposta. Rabbia, astio, frustrazione, una serie di elementi che hanno cominciato a farmi dormire sempre meno. La patente l'ho presa a 40 anni. Dissi no basta, è il momento di prenderla e io l'ho presa da un alcolettico. Tre, quattro canzoni e dormi. Durante la notte, durante il sonno c'è vita. Grazie. Grazie.